Duro scontro verbale in aula nel corso della diciassettesima udienza del processo per l'omicidio di Sarascazzi tra il pubblico ministero Mariano Buccoliero e l'avvocato Roberto Borgogno sostituto processuale di Franco Coppi uno dei due legali di Sabrina Misseri. Durante la deposizione dello psichiatra del carcere di Taranto Giovanni Primiani il legale ha contestato alcune domande formulate dal magistrato il quale a sua volta aveva messo in dubbio alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza dall'infermiere del carcere Cosimo Maggi. Nella sua deposizione Primiani rispondendo a dura domanda di uno dei legali che gli ha chiesto se Michele Misseri avesse mai detto di essere stato molestato ha risposto che qualcosa c'è stato. Mi fece delle confidenze ha detto lo psichiatra ma su questo episodio non posso rispondere. Inoltre Primiani ha riferito che il dosaggio dei farmaci che furono somministrati a Michele Misseri poteva rallentare la sua funzione intellettiva ma non la sua capacità di giudizio e di relazione. Primiani ha evidenziato che Misseri nei vari colloqui disse sempre di essere stato lui il responsabile. Li manifestò il proposito di volersi suicidare e non spiegò il motivo per il quale avesse accusato la figlia Sabrina. Mi disse che lo avevano imbrogliato, lo avevano confuso e convinto ad accusare ingiustamente la figlia nel periodo in cui assumeva gli psicofarmaci, dice invece il detenuto Clemente di Crescenzo riferendosi alle confidenze che gli avrebbe fatto in carcere Michele Misseri e che lui annotava su un diario. Il riferimento è al primo difensore di Michele Misseri, l'avvocato Daniele Galoppa e alla criminologa ingaggiata da Galoppa come consulente Roberta Bruzzone. Intanto sul fronte delle indagini i carabinieri del RIS hanno analizzato 18 cinture tra quelle sequestrate dalla polizia giudiziaria nell'abitazione della famiglia Misseri alla ricerca del DNA da comparare con quello degli indagati per l'omicidio di Sarascazzi. In alcuni casi sono state trovate tracce compatibili con il profilo genetico di Michele Misseri. Inoltre sono stati compiuti accertamenti anche sul telefonino di Sarascazzi che presentava bruciature e aveva il display rotto, ma la sim estratta dal telefone analizzata separatamente era in uno stato di conservazione discreto e si potevano estrarre i dati. Corridoi di lancio off limits per acquascutere e canoisti per garantire la fruibilità delle spiagge e la sicurezza dei bagnanti. E' una delle novità dell'ordinanza di balneazione 2012 presentata dall'ammiraglio Giovanni De Tuglio e dall'assessore al demanio della regione Puglia Michele Pelillo. L'ordinanza, frutto della concertazione di capitanerie di porto, regione e questura, riguarda i 67 comuni costieri della Puglia. Da quest'anno, nei corridoi di lancio, gli specchi d'acqua antistanti gli stabilimenti balneari, larghi dai 10 ai 20 metri e lunghi non meno di 200 metri, anche barche a remi e a vela, tavole da surf, moto d'acqua, canoa e pattini dovranno muoversi con moto lentissimo fino alla zona consentita per la navigazione e sarà vietato l'ormeggio e l'ancoraggio. Le capitanerie di porto sono già al lavoro per individuare i gestori balneari reticenti. L'8% del PIL della regione Puglia viene dal turismo, concentrato soprattutto nei mesi estivi. Un incremento straordinario rispetto al 3% di 8 anni fa, ha sottolineato l'assessore al demanio Michele Pelillo. L'utilizzo del demanio marittimo è dunque strategico per il turismo balneare. C'è anche la numero 1 di Standard & Poor's, Maria Pierdicchi, tra gli indagati della procura di Trani che da tempo ha acceso i riflettori sull'agenzia che si occupa di valutare il rating, ovvero l'affidabilità finanziaria di un paese o di privati. La Pierdicchi, a quanto si apprende, è indagata per favoreggiamento. La procura di Trani ha inviato il fascicolo per competenza alla procura di Milano, mentre le indagini dei magistrati pugliesi si concentrano anche sulla sede new yorkese di Standard & Poor's. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, la procura tranese aveva notificato agli interessati la notizia di chiusura delle indagini. Sono 5 in totale le persone accusate dai PM di manipolazioni del mercato a seguito proprio delle notizie sui rating diffuse da Standard & Poor's. I fatti si riferiscono ai 4 report sull'Italia diffusi dall'agenzia americana tra maggio 2011 e gennaio 2012. Intanto Standard & Poor's si difende. Riteniamo che le accuse riportate siano prive di ogni fondamento e non supportate da alcuna prova, dicono dall'agenzia di rating. Il lavoro continua, noi non abbiamo pretesi di arrivare da nessuna parte, vogliamo soltanto arrivare alla verità davanti ai nostri giudici che è la loro sede naturale e quindi porteremo se non subentrano delle situazioni nuove, porteremo a giudizio quelli che riteniamo essersi resi responsabili di fatti gravissimi come la manipolazione del mercato, cose che avete già scritto, in danno dell'Italia. Non abbiamo grandi pretesi, siamo molto sereni e andremo avanti senza problemi. Noi abbiamo gli strumenti per fare chiarezza, questi strumenti li abbiamo in parte azionati, contiamo di fare il nostro lavoro sino in fondo come ci sforziamo di fare quotidianamente per la gente e nell'interesse della gente, degli italiani. Altri due ospedali da chiudere, Nardò e Conversano, salvi invece quelli di Fasano, Mesagna e Trani. Sono gli ultimi tagli definiti dalla giunta regionale per la seconda fase del piano di rientro. Nel complesso solo la provincia di Taranto vede aumentati i posti letto, soprattutto di oncologia e pneumologia. Saranno dieci in tutto i punti nascita, la cui Asticiale è stata fissata a 500 parti l'anno. Con l'approvazione di questa delibera, ha dichiarato l'assessore alle politiche della salute Ettore Attolini, si chiude la parte regressiva del piano di rientro. Arriva ora quella del rilancio, della medicina territoriale, delle risposte concrete al bisogno di salute della gente, ha annunciato. È il prezzo da pagare per fare nuove assunzioni, ha spiegato il governatore Nichi Vendola. Nelle prossime ore possiamo stabilire le piante organiche e far partire i concorsi per assumere medici e infermieri. Il nostro obiettivo fondamentale è guadagnare le risorse che consentano al sistema Puglia di traguardare una fase difficile e finalmente camminare verso obiettivi di miglioramento del sistema sanitario, ha spiegato Vendola al termine della giunta regionale di ieri pomeriggio, che si è chiusa poco prima delle 22. L'obiettivo che c'era imposto era quello di tagliare 2400 posti letto, di fare cioè una cura dimagrante impressionante, ha aggiunto Vendola. Noi abbiamo fatto in un anno quello che la regione toscana ha fatto in dieci anni dal punto di vista della chiusura di piccoli ospedali. Le chiusure diventano drammatiche se non vengono accompagnate da aperture. Si può chiudere un ospedale se è un bidone vuoto, ma bisogna sostituirlo con una rete di servizi assistenziali ed è quello che noi faremo. Duplice omicidio nel Foggiano. Sono stati identificati due cadaveri trovati nella tarda serata di ieri nelle campagne di Siponto, vicino a Manfredonia. Sono Antonio Balsamo, di 31 anni, e Francesco Saverio Castriotta, di 32, entrambi di Manfredonia e con piccoli precedenti per droga. Balsamo è stato trovato semicarmonizzato al posto di guida di una Opel Corsa risultata intestata alla sua compagna e data alle fiamme. I due corpi, dopo i primi esami fatti dal medico legale, sono stati trasferiti all'obitorio degli ospedali riuniti di Foggia a disposizione del magistrato che ha disposto l'autopsia. Entrambe le vittime sarebbero state raggiunte da alcuni colpi di arma da fuoco, forse una pistola. L'allarme è stato dato da una telefonata al 118, il cui personale sanitario ha avvertito i carabinieri. Dopo aver individuato il primo cadaveri, i militari di Manfredonia intervenuti con alcune pattuglie si sono accorti che in un vicino campo c'era la seconda vittima, alla quale era stato dato fuoco, presumibilmente dopo l'omicidio. L'uomo trovato nei campi aveva anche il volto sfigurato e nessun documento con sé. Le indagini sono condotte dai carabinieri in collaborazione con la polizia. La scena del crimine sembrerebbe quella del 21 aprile del 2009 in cui furono uccisi l'imprenditore Franco Romito e il suo autista Giuseppe Trotta in un agguato mafioso. Romito era un confidente dei carabinieri che per anni aveva collaborato con i militari per incastrare i pericolosi boss mafiosi del Gargano. Un episodio che è tornato immediatamente alla mente degli investigatori, anche se è prematuro collegare due evenimenti, così come non è ancora certo se si tratti di un omicidio di mafia garganica, anche se le modalità lasciano poco spazio ad altre ipotesi. Ha detto di avercela con il mondo ma il movente non convince. Giovanni vantaggiato, 68 anni di copertino in provincia di Lecce, commerciante di benzina agricola e il colpevole dell'attentato all'istituto Morvillo Falcone di Brindisi, avvenuto lo scorso 19 maggio in cui è morta la 16enne Melissa Bassi e sono rimaste ferite altre 5 ragazze. Dopo 18 giorni di incessanti indagini, gli investigatori sono arrivati a lui ma è solo l'inizio, dicono, le indagini è come se partissero da ora. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere a circuito chiuso ma soprattutto le due auto, una Fiat Punto Bianca e una Hyundai Blue, entrambe di proprietà di vantaggiato, viste sul luogo dell'attentato i giorni precedenti ma anche all'alba di quel tragico 19 maggio scorso. Vantaggiato e accusato di concorso in strage aggravata da finalità di terrorismo. Concorso perché comunque potrebbe avere avuto complici e non si esclude neppure che la moglie sapesse tutto. I dettagli su come si è arrivati a lui sono stati forniti in procura a Brindisi. Il procuratore della DDA di Lecce, Cataldo Motta, ha detto che vantaggiato ha spiegato come ha fabbricato l'ordigno, come l'ha posizionato e come lo ha fatto esplodere. Ha ammesso di averlo posizionato di notte e non di giorno perché di notte non ci passa nessuno di lì. Ma ora gli investigatori cercano di capire il perché dell'attentato. Vantaggiato ha detto di aver avuto prima l'intento di posizionare le tre bombe davanti al tribunale che è alle spalle dell'istituto Morvillo Falcone e di aver dovuto cambiare idea perché il tribunale era troppo presidiato. Ma per Motta da una parte sta la scuola, da una parte il tribunale, fra l'altro la sentenza non proprio a suo favore a causa di una truffa subita, secondo Motta, non giustificherebbe un atto di tale gravità. Stiamo valutando tutto, ma siamo a livello di opinioni personali. Forse non sbagliava la persona con il mondo, ma non credo che questo sia collegato alla mia opinione personale, ma non credo che possa essere legato all'evento così grave. Tanti dubbi sul muovente che dovranno essere approfonditi nel corso dell'attività investigativa, che come è stato ricordato è soltanto iniziata, ma che sicuramente parte da un punto di partenza certo. Avete altri elementi su cui lavorare? Sicuramente, ovviamente non è possibile quantificare in termini temporali, però è sicuramente un impegno tuttora da parte di tutti gli investigatori impegnati nelle indagini, dare un'ulteriore risposta agli interrogativi che indubbiamente ancora ci sono sul reale muovente. Quello che è possibile dire, come è già stato peraltro sottolineato anche in sede di conferenza stampa, è che comunque qualunque tipo di valutazione va anche rapportata alla personalità del soggetto individuato. In linea teorica, al momento, lui non ammette e non indica alcuni complici e nessun altro, però dal punto di vista teorico noi dobbiamo continuare ad indagare. Dicevo prima, noi usiamo il metodo induttivo, quindi mano a mano raccogliamo i fatti e ci facciamo la nostra costruzione. Il papà di Berardino Vitto aveva comprato a Conversano quella casa per ospitare durante le vacanze il figlio, la moglie Velmoed, olandese, ed il piccolo Giovanni Angelo, di nome di fatto, di appena 18 mesi. Tutti e tre hanno perso la vita all'istante, schiacciati dalle macerie di quella casa vacanze, dilaniata da una terribile esplosione provocata da una fuga di gas. Un boato che questa mattina ha sbriciolato due palazzine nel centro storico e che ha provocato anche 11 feriti, nessuno dei quali fortunatamente in gravi condizioni. I particolari che si scoprono dopo queste tragedie sono come sempre angoscianti. L'orologio, nella casa della famigliola italo-olandese, si è fermato alle 8.40. I tre corpi sono stati ritrovati con il pigiama indosso, erano a letto e in programma per oggi c'era una gita allo zoo safari di Fasano e li avrebbe dovuti accompagnare il cugino, omonimo della vittima, il pizzaiolo di Conversano, Bernardo Vitto. I tre sarebbero dovuti ripartire martedì prossimo per tornare ad Arlingen, in Olanda, dove il trentenne telecineoperatore abitava e dove si era ormai trasferito e dove aveva conosciuto sua moglie, sua coetanea e dove anche lui gestiva una pizzeria. Queste persone sono state trovate tutte sul letto, quindi stavano dormendo alle ore 9 della mattina, quindi c'è stata un'esplosione fortissima che ha coinvolto tutta la palazzina, l'effetto della sovrappressione solitamente è alta e quindi addirittura le pareti dell'edificio sono state proiettate sull'edificio di fronte. Fuga di gas da dove? Fuga di gas si presume che sia dal GPL, di fatti sono state trovate due bombole, una bombola era attaccata alla cucina, era aperta e un'altra bombola invece era chiusa. È finita purtroppo così e siamo tutti molto tristi, la città è stravolta da questa vicenda, da questa tragedia, in realtà era quasi aspettata questa cosa perché in tutti i modi si è cercato di rintracciare queste persone altrove non era stato possibile, per cui si temeva il peggio. Credo che sia compito adesso della procura, dei vigili del fuoco stessi, stabilire le cause effettive. Il comune si sta già occupando ovviamente delle persone che non hanno casa, abbiamo contattato e abbiamo avuto la disponibilità di tutti gli alberghi conversanesi, ci sono i nostri servizi sociali a disposizione di tutte le famiglie che hanno problemi di vitto, di alloggio e ci sono anche gli psicologi del centro operativo della prefettura. La Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Puglia che ha vinto il ricorso contro il decreto del 6 luglio 2011 conosciuto come legge Gelmini che imponeva gli accorpamenti degli istituti scolastici. La Puglia, con altre sei regioni, si era opposta alla norma che obbligava i territori a procedere con gli accorpamenti e con la creazione di istituti comprensivi con un minimo di mille all'unni, ma chiedeva comunque giustizia. La Corte Costituzionale gliel'ha data, ha ritenuto fondato il ricorso che si basava sul fatto che per la Puglia le decisioni sull'organizzazione del servizio scolastico sono di esclusiva competenza delle regioni. Ma ora, dopo un primo momento di soddisfazione, in molti si chiedono cosa accadrà dal momento che gli accorpamenti, così come inizialmente imposto dalla legge, sono stati effettuati entro il 30 gennaio. Il cosiddetto piano di dimensionamento scolastico in Puglia infatti ormai c'è. Non cambierà nulla, è troppo tardi tornare indietro. Questa è una domanda che non va rivolta alle organizzazioni sindacali che continueranno, credo, a chiedere che la sentenza della Corte Costituzionale, almeno per quello che ci riguarda, venga attuata fino in fondo. La domanda bisogna girare da una parte agli uffici tecnici, cioè l'ufficio scolastico regionale, ovviamente innanzitutto al MIUR, gli uffici scolastici regionali e provinciali, dall'altra parte poi agli assessori regionali che hanno dovuto applicare la norma che era stata imposta dalla legge 111.